Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, scusate... oh mamma, mi sono anche macchiata il dito con la penna, scusate la faccia ma sono venuta a casa in pausa pranzo e mi sono struccata, ho fatto una maschera, mi sono lavati i capelli, adesso mi sono un po' ritruccata però capisco che sono un po'... un po'... Allora, questo è un video in collaborazione con Melissa del canale LaMeli, come al solito vi lascio il link nell'info box del suo canale, sapete che ho già collaborato con lei, quindi andate assolutamente a seguirla, iscrivetevi anche al suo canale E è lei che ha vinto il premio che avevo messo in palio, quindi non so come mettermi i capelli, quindi volevo dirvi, se dovete dirle su, ditele tranquillamente su No, sto scherzando, comunque lei mi segue da praticamente quando ho aperto il canale o forse poco dopo, quindi una vita fa no, però anni fa è stata la prima ed è quella che continua proprio a seguirmi e sono stata contenta, ecco, a dare il premio a lei Abbiamo deciso questa volta di fare un video su 10 domande, io ho fatto 10 domande a lei, lei ha fatto 10 domande a me e adesso rispondiamo Ognuna di noi ha delle domande diverse, alcune simili, abbiamo visto che alcune erano simili E abbiamo deciso di fare questo video in modo che così ci facciamo un po' conoscere tramite le domande non tanto intime, nel senso personali, ecco Però se vi piace la tipologia possiamo farne altri, magari potete anche farci delle domande voi a noi e poi noi come al solito aggiungiamo altre domande tra di noi e ne facciamo altre di video, ecco Allora intanto incominciamo Mi ha chiesto qual è la mia stagione preferita, indubbiamente la mia stagione preferita è l'estate, io adesso sto benissimo, nel senso che oggi è il 17 settembre, sono le 2.41 e ci sono tipo 28 gradi Purtroppo non me lo segna, di solito me lo segna, ma adesso no, ma si sa da dio, nel senso che io adoro il caldo Ovviamente non quel caldo troppo affoso, troppo umido che Verona ha, però a me piace il caldo Se scendono le temperature già sui 20 gradi, io mi ammalo, mi viene subito raffreddore, subito, subito, subito Cioè proprio se alla sera ci sono 20 gradi, io al giorno dopo già ho raffreddore Mi piace tanto il caldo, mi piace il fatto che non ci si vesta a strati, si può andare al mare, si può stare fuori, ci sono più ore di luce Mi piace proprio l'estate per questo motivo qua, perché c'è tanto, tanto, tante ore di luce e tanto, tanto sole Ecco, c'è da dire che però tra l'estate e il caldo affoso ci sono due cose diverse Però ecco, la mia stagione preferita è l'estate in assoluto Sei selettivo nell'ambito dell'amicizia o sei aperta a tutti? Allora, una volta ero più aperta a tutti, nel senso che facevo amicizia facilmente fin da piccolina Anche nella fase adolescenza, superiori, così Attaccavo un po' bottone con tutti, non avevo problemi, diciamo maschi, femmine, non mi interessava Anche persone più grandi, mi ricordo che ero in prima superiore e già avevo amici in quarta, in quinta superiore Quindi ero molto tranquilla, molto aperta, andavo proprio a conoscere gente in giro, mi buttavo nella mischia Dopodiché ho preso una serie di, vorrei dirle in un termine evitato ai minori Una serie di bastonate, in fregature, ecco, in fregature, diciamola in maniera un po' più in francese E di conseguenza ho messo un paletto, nel senso che sto bene da sola Ho un'amica, due, da scuola, anche prima di scuola E stop, cioè nel senso che le vere amiche o i veri amici li conto sulle dita della mano Ma una, neanche due Quindi sì, sono diventata rispetto a prima molto più selettiva per via di questa cosa qua Nel senso che ho reputato gente, mie, tra virgolette, migliori amiche Nel senso dove io potevo fare assolutamente affidamento su di loro E in verità si sono rivelate l'opposto Totalmente l'opposto Avevo chiuso dei rapporti, avevo cercato di riprenderli in mano Perché comunque con una persona c'ero cresciuta insieme Quindi ho detto, andiamo oltre E nonostante tutto ho trovato un muro Quindi mi dispiace, ma sono diventata molto selettiva Specialmente per quanto riguarda le amicizie femminili Perché è molto, molto, molto più difficile andare d'accordo L'amicizia femminile, secondo me, è meno pura che non fa tra uomo e donna Se non c'è un secondo fine, capitemi Nel senso che la donna è proprio cattiva dentro È difficile trovare un rapporto tra due donne Che vada veramente bene al 100% senza un fondo di malignità sotto Perché noi donne purtroppo siamo così Cioè della serie guarda quella come si è vestita Ma che capelli di merda ha Quella è una stronza E andiamo avanti così Quindi è difficile, siamo un po' cattivelle Ecco, quindi di conseguenza, sì, sono diventata Non lo ero, però sono diventata selettiva Sogno nel cassetto Non ne ho Non ne ho Nel senso che fin pochi anni fa ne ho avuti tanti E li ho messi tutti da parte Quindi quel cassetto lì è chiuso con la chiave dopo il mandato E l'unica cosa che mi è rimasto, ecco È visitare l'America Per quanto riguarda il viaggio Cioè proprio il mio sogno nel cassetto È il viaggiare, visitare l'America dal nord al sud Coast to coast, on the road Qualsiasi cosa riguarda l'America E ecco, diciamo quello Mi è rimasto quello Vita mondano, serata con amici, barra ragazzo Filme, giochi Allora, io fino a qualche anno fa Per me venerdì sera e sabato sera In giro era sacro Specialmente quando andavo alle superiori Avevo un gruppetto di amiche Avevamo la compagnia Quindi spesso eravamo in giro Si mangiava fuori Si stava fuori Bar, disco pub Disco, roba e così E poi Ho fatto sette anni di clausura Dopo, no dai, a parte gli scherzi Sono stata Ho avuto una storia lunga per sette anni Quindi ho un po' escluso Tutta la parte di amicizie Soltanto per stare con lui Poi dal 2014 ho conosciuto Il mio attuale compagno E ci piace uscire Ci piace uscire anche Con amici Suoi, miei O amici in comune Con altre coppie Però Siamo diventati un po' più stanchi Nel senso che preferiamo Piuttosto Stare a casa O film Ci piace tanto giocare a carte O magari Uscire per i fatti nostri Quindi Direi più serata easy Che vita mondana Ormai la vita mondana Anche perché comunque A parte Cioè veramente A parte tutto quanto A parte gli scherzi Io alle 10 di sera Crollo Comincio a dormire Quando è stato? Venerdì sera C'era il bifido Con il comico Insomma E siamo andati a vederlo E dopo 40 minuti Che lo stavo ascoltando Avevo un occhio così E un occhio Neanche del tutto aperto Quindi Sono andata a letto Tipo 10 e mezza E sabato sera Sono stata a country C'è stata una serata americana Ballo country Quindi sono andata Ballo Vabbè Quindi siamo andati A questa sagra Però comunque Alle 11 Eravamo a casa Cioè proprio Vita tranquilla E soddisfatta Della tua vita Ora? Sì e no Nel senso che Le cose che ho fatto In passato Comunque le rifarei Però per quanto riguarda Alcune cose Che invece nel passato Avrei potuto fare E non ho fatto Le vorrei tanto fare Adesso Ma non c'è più la possibilità Quindi Mi sento un po' a metà Ecco Soddisfatta A metà Dolce o salato Assolutamente dolce Purtroppo Perché magari col salato Cioè col dolce Anche solo se guardo Un piccolino Quadratino di cioccolato Prendo 6 chili Invece magari col salato Eviterei di prendere 6 chili Ne prenderei solo uno Però dolce Tutta la vita Tutta la vita Assolutamente A qualsiasi ora del giorno E dolce Sei sicura di te? Mi Nel senso che Forse anni fa Sì di più Molto di più Di adesso Adesso Ho una serie di pensieri Una serie di cose Tante cose Che Prima Mi piacevano di più Adesso Mi piacevano Mi piacciono di meno Quindi Sono sicura di me A metà Ecco Un sacco di insicurezze Dubbi Paure Come tutti quanti Però A metà A metà Le mie passioni Le mie passioni Sono tante Ho fatto danze Ho fatto danza Una vita Ho iniziato a fare danza Cinque anni e mezzo Ho smesso Nel 2009 Purtroppo A causa di un infortunio Pesante Abbastanza pesante Nel senso che Mi fa ancora male Adesso Il ginocchio Però Comunque Rimane Una delle mie passioni Mi piace tanto Leggere Ascoltare musica Truccarmi Qualsiasi cosa Riguarda i trucchi Io divento matta Veramente voi Dite la parola trucco E io divento matta Perché hai deciso Di aprire un canale Youtube Ehm È nato tutto per caso Nel senso che Anche il mio compagno Diceva Dai ma tu che fai le cose In casa Apri il canale Youtube A te che piace questo Piace quell'altro Dici di comprare Questo o quell'altro Apri un canale Youtube Così almeno Lo puoi dire A tutto il mondo Quindi ecco Diciamo che è nato Un po' per quello Non ne avevo tanta voglia Perché il primo Periodo non vedevo Tanti iscritti Vedevo Poca Poca attività Ecco Nel senso che appunto C'erano pochi iscritti Pochi commenti Però Andando avanti Ho raggiunto Insomma già Un buon traguardo Per quanto mi riguarda Perché non me l'ero Per niente Prefissata E niente Quindi è nato un po' così L'ho aperto Perché appunto Volevo condividere Specialmente per quanto riguarda Le cose Che non inquinano L'ambiente I prodotti che non inquinano L'ambiente Che non fanno male Alla persona Volevo condividerlo Quindi principalmente Ho deciso di aprire Un canale youtube Per questo Ultima domanda Se ti dovessi descrivere Con tre parole Come ti descriveresti Beh ragazzi Innanzitutto Io sono del segno della vergine Quindi già quando Si dice segno della vergine Si dice un po' d'anno Troppo la pagina Scusate Nel senso che la vergine È una persona puntigliosa E testarda E io lo sono in pieno Sia uno che l'altro Siamo molto pignole Noi della vergine E io devo dire Che testarda Indubbiamente Se mi metto in testa Una cosa È quella E non c'è storia Per quanto riguarda Essere un po' Puntigliosa e pignole Abbastanza Nel senso che Casa mia È un caos Cioè io vivo nel caos Però Se devo fare un viaggio Io pianifico tutto Dalla spesa Alla valigia Pianifico tutto Veramente Devo avere tutto sotto controllo Non in maniera compulsiva Vero Cioè nel senso Soltanto per un discorso Di organizzazione Quindi direi Questi due Poi una terza Una volta mi si diceva Che ero una testa matta Nel senso che Ero La peccora nera Della scuola Tutti però venivano da me Io facevo festa Ero una persona così Adesso direi Che sono un po' più equilibrata Ecco Diciamo queste tre parole Non mi piacciono tanto Però diciamo così E niente ragazzi Quindi io vado al lavoro Voi mi raccomando Seguite anche la mail E sono curiosa Di vedere anche Le tue risposte E mi è piaciuto tanto Comunque fare questo video qua Rispondere alle domande Che fanno le altre persone Mi piace Veramente Che non fa piuttosto Stare lì E partire da zero A raccontarvi delle cose Quindi Qualsiasi domande Fatecele Specialmente anche in due Così almeno Facciamo un altro video Uguale Io vi mando un bacio Ci vediamo al prossimo Ciao